ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Francesca e in questa nuova mini serie di gameplay andremo ad esplorare il nuovo game pack a ridi da sogno per chi non mi conosce che magari mi ha trovato proprio grazie a questo video vi faccio una veloce introduzione al mio canale in cui racchiudo svariati argomenti che sono sostanzialmente tutte le mie passioni quindi ho iniziato parlando di planning e organizzazione sia cartacea che digitale utilizzando sia il metodo del bullet journal sia l'applicazione good notes per ipad poi ho introdotto dei video tutorial sull'applicazione procreate ci sono video in cui parlo di libri e di serie tv e recentemente ho anche creato una playlist di idee e trucchetti da utilizzare su instagram per un periodo ho vissuto a londra come ragazza alla pari e ho raccontato la mia esperienza qui su youtube quindi davvero questo è lo spazio in cui cerco di raccogliere tutte le mie passioni tutto ciò che mi piace fare compreso appunto giocare a the sims è tutto diviso in playlist quindi se vi va alla fine di questo video date una sbirciata anche agli altri contenuti ma ora torniamo a noi e iniziamo parlando del protagonista di questa nuova serie lui è mj ed è la sesta generazione del mio gameplay qui su youtube per ogni generazione ho creato una nuova serie gameplay che trovate in descrizione e ovviamente troverete poi in galleria sia lui sia la sua casa che ho realizzato proprio con il nuovo game pack a redi da sogno qui vedete sia lui sia il suo cane oliver che ha ricevuto come regalo di compleanno quindi mi sembrava giusto farli trasferire insieme andiamo a vedere i suoi abiti allora questo è il primo quotidiano poi questo qui è il secondo poi abbiamo il terzo quotidiano che è questo e poi c'è il quarto abito quotidiano che è questo qui passiamo ai formali e sono uno questo è il primo e due eccolo qua poi sportivi abbiamo soltanto questo da notte invece eccolo qui con il suo pigiamino da festa abbiamo questo che è il primo e poi c'è il secondo eccolo qui andiamo poi ai costumi da bagno ce n'è soltanto uno questo clima caldo c'è questo che avete visto all'inizio poi questo è il secondo questo qui è il terzo clima caldo e questo è l'ultimo con gli clima freddo questo è il primo questo è il secondo outfit clima freddo e questo è l'ultimo benissimo lui è manuel j andiamo a vedere l'aspirazione e i suoi tratti come aspirazione ho scelto pittore straordinario che è un'aspirazione che ha iniziato già da quando era adolescente e quindi come tratto bonus a riflessivo come tratti invece a perfezionista estroverso e corretto cosa gli piace e cosa non gli piace per quanto riguarda i colori gli piace il marrone e il rosso e lo avete già notato anche un po dal suo abbigliamento poi come genere musicale gli piace la musica cantautoriale gli piace la musica di sottofondo ma non gli piace la musica s pop come attività gli piace la fotografia gli piace il violino e poi come arredamento ancora non c'è nulla perché questa è una cosa che voglio scoprire proprio giocando diamo un'occhiata anche al cagnolino oliver eccolo qui lui è testardo attivo e un pochino aggressivo quindi loro anzi in particolare nj lui sarà il protagonista di questa nuova miniserie andiamo a vedere la sua casa prima di entrare nella casa vi faccio vedere anche questi altri tratti premi o tratti bonus che ha ricevuto e abbiamo sim mattiniero controllo emotivo buone maniere bebè superlativo doti creative lettore veloce e senso commerciale questa invece è la sua casa si trova a windenburg che è praticamente lo scenario che mi piace di più e ho costruito la casa proprio guardandomi intorno guardando le altre costruzioni che ci sono infatti è molto simile proprio a tutti gli altri edifici c'è anche da dire lo vedrete poi piano piano nel corso degli episodi che io ho eliminato tutti i sim che erano già presenti in gioco e ne ho inseriti di nuovi li ho scaricati dalla galleria e li ho inseriti qui nella mia partita perché volevo proprio qualcosa di nuovo volevo che ci fossero anche sim nuovi e anzi se vi fa piacere potete mandarmi in galleria i vostri sim alcuni dei vostri sim utilizzando l'hashtag sim per francesca il pini e magari lasciandomi un commento qua sotto così io poi vado a vedere e li inserisco nei miei scenari benissimo adesso andiamo a vedere la casa questo è l'esterno ve la faccio vedere prima da fuori come vi dicevo è molto in stile windenburg e io adoro questo stile quindi abbiamo qui l'ingresso adesso entriamo subito in casa eccoci qua iniziamo con un bel salottino questa è l'entrata quindi qui abbiamo il salotto e ovviamente non potevo non utilizzare questi nuovi divani modulari quindi abbiamo il divano qui c'è la tv con tutta la parete attrezzata e ho cercato di decorarla proprio secondo i gusti di mj e da questa parte abbiamo un piccolo tavolino per lasciare le chiavi le lettere e tutto ciò che si appoggia diciamo appena si entra in casa e poi sotto c'è una scarpiera quindi lo specchio e l'appendi abiti vediamo poi cucina e sala da pranzo quindi questo è tutto uno spazio aperto da questa parte abbiamo la cucina con l'isola mentre di qua ho sistemato il tavolo da pranzo e qui ovviamente c'è la ciotolina del cane poi ci spostiamo verso il corridoio quindi qui abbiamo un corridoio che porta in tre stanze questa è la prima questa è la seconda e questa è la terza poi ce n'è un'altra piccolissimissimissima che è questa qui ed è un piccolo sgabbuzzino in cui appunto ho messo l'aspirapolvere il tavolo da stiro il cibo per il cane e la scopa con la paletta quindi è veramente un piccolissimo sgabbuzzino e l'ho messo qui in questa parte della casa quindi nel corridoio troviamo anche un mobile e una pianta decorativa adesso entriamo nelle stanze quindi la prima porta ci permette di entrare nella sua camera da letto questa è la sua stanza anche qui ovviamente ho utilizzato tutti i nuovi mobili che sono usciti con il nuovo game pack qui abbiamo una cabina armadio che è aperta quindi a vista e qui ci sono tutte le sue cose abbiamo le scarpe i vestiti le scatole contenitori libri lenzuola asciugamani c'è di tutto io adoro questa cosa è fantastico poi andiamo nella seconda stanza a qui ovviamente ho messo anche il il tappeto la cuccia per il cane qui c'è qualche poster di cose che gli piacciono nella seconda stanza invece abbiamo il bagno quindi questo è il suo bagno e qui abbiamo il il lavandino lo specchio da questa parte c'è la doccia mentre da quest'altra ho aggiunto anche la lavatrice e l'asciugatrice eccoci qua l'ultima porta invece è quella dello studio quindi qui ho sistemato tutte le sue cose perché ovviamente lui inizierà la carriera da interior designer mi sembra ovvio visto il nuovo game pack e quindi qui c'è il suo studio c'è una scrivania per scrivere una semplice scrivania con tutte le cose che possono essere gli utili poi qui ci sono varie cose vari oggetti per artisti e da quest'altra parte c'è il tavolo da lavoro che ovviamente non so ancora come funziona perché io ancora non ho iniziato a giocare con il nuovo game pack lo scopriremo insieme quindi questa è la casa di mj mi piace veramente tanto 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 poi qui come decorazione ho messo anche la macchina che ovviamente non è funzionale non è utilizzabile ma mi piaceva aggiungerci anche questo tocco finale ecco qui vi faccio anche una panoramica dall'alto per farvi vedere bene tutta la struttura della casa è ancora molto da decorare voglio aggiungerci delle foto dei suoi ricordi insomma cose sue personali però nel complesso questa è la sua casa e io la adoro mi piace tantissimo quindi per questo primo episodio di presentazione è tutto io mi fermerei qui mentre nel prossimo episodio inizieremo il lavoro da interior designer e magari proveremo anche il primo incarico quindi spero che il protagonista vi piaccia che la sua casa vi piaccia e spero che mi seguirete in questa avventura grazie per la visione e al prossimo episodio ciao